Mi servono crediti? FIFA15CoinSmile, troverete il link e il codice coupon qui in descrizione, sono veloci, affidabili ed economici. Yepa ragazzi, bentornati su Giovi HD Spoh, benvenuti in un pacco opening nel quale andrò ad aprire pacchetti da 50.000 crediti. Ne aprirò 3 per ogni account, circa 450.000 crediti in pacchetti da 50.000 crediti. Sul mio account primario ho aperto tutti e 3 questi pacchetti da 50.000 crediti e non ho trovato nulla. Il più interessante è stato David Silva, vabbè. Comunque, procediamo, facciamo uno lo guardiamo, uno lo scrippiamo. Quindi, questo primo pacchetto da 50.000 crediti lo guardiamo ed esce Nasdry, porca miseria, vediamo. Leandro Castan, Voetius, Isco, vediamo. Isco upgrade. Vediamo il suo prezzo, un cazzo, vabbè. Vabbè. E niente, inviamo tutti i... Boh, vabbè. Inviamo tutto al clan. Vai cazzo. Dai cazzo, dai cazzo. Questo si schippa, si schippa, si schippa, si schippa, si schippa, sippa, 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 oppa, oppa, oppa. Questo si schippa, si schippa, si schippa, si schippa, mamma mia, pensavo a Ghiro. Ma tu i diva al Buena, Naudo, che palle, che merda però. Ho visto un argentino del, mamma mia, Ghiro. No, un cazzo di niente, vabbè. Andiamo avanti. Dai, dai cazzo. Dai cazzo. Dai cazzo. Ah, cazzo, ma vaffanculo proprio, va. Uno più merdoso dell'altro, chi cazzo so, boni. Non gli aiature, boni. Vabbè. Vabbè. Dai cazzo, apriamo gli altri pacchetti da 50.000 crediti. Vai, che qualcuno, 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 qualcuno ci deve uscire, schippiamo. Oh, Sergio Busquets, che è sta merda. Shagiri e due degli, cioè, proprio i due dell'Inter, eh. Cioè, proprio a perseguitarmi. Vargas, Sané, mamma mia. Oh, mamma mia, che cacata. Viviamo tutto al club e andiamo ad aprire un altro pacchetto. Sergio Busquets. Cioè, ragazzi, in un pacchetto da 50.000 crediti esce Sergio Busquets. Mamma mia, mamma mia. Apriamo subito l'altro. Dai cazzo, questa volta non si schippa, ci guardiamo tutta la nostra bellissima animazione che fa veramente ben pensare ad ottimi giocatori. E invece ci esce quest'ottimo non giocatore. Ma che ho? Di nuovo, caballero, mi stai trollando. Abbiamo Walker. Eh, vabbè. Felipe Santana ha passato all'Olympiakos. Pacchetto, ragazzi. Un altro pacchetto. Questa volta si schippa. Schippiamo. E Schippidus. Schippidus. Lavezzi. Eh, Benatia. Cazzo, però, quanti giocatori da 80. Rakitic. Wanyama. Ah, ah, Benatia. Socrates. Cioè, non valgono un cazzo, però. Boh. Vabbè. Anzi, va male, anzi. Questo discarto, eh. Vabbè, procediamo con altri, dai. Dai, ragazzi. Apriamo questi ultimi tre pacchetti. Questo primo pacchetto. Non si schippa. Eh, non lo guardo. So che non mi state... Non mi state vedendo che non lo sto guardando, ma non lo sto guardando. Lasciatemi un commento su chi cosa ho trovato in questo primo pacchetto da 50.000 crediti. Il terzo qua. Il terzo ultimo pacchetto. 3, 2, 1. Vediamo... William. Beh, vabbò. Ruffiera upgrade. Interessante. Anche Coleman upgrade. Ma sicuramente non varrà un cazzo questo. Sì, sì, un cazzo. Esattamente così come Coleman. Upgrade. Vediamo un poco con frontaprice. Anche questo vale un cazzino. Eh, che merda. Che brutto, che brutto, che barba, che barba, che noia, che noia. Abbiamo tutto il tempo e passiamo al penultimo pacchetto. Credo che questo video lo chiamerò come spendere 450.000 crediti. Schippiamo Johnson Montoya. Oh, che cazzo è tutto della Roma? Avevo trovato Germini, Landograstani e Bianci della Roma. E Pirlo, che non c'entra un cazzo. Pirlo, che non c'entra un cazzo. Vaffanculo. Paco Panic è andato veramente a una merda. Vabbè, qui vediamo. Intanto, vi invito a lasciare già mi piace. Sì, un if, trap, che non vale un cazzo. Però è un if, ragazzi. Un if all'ultimo pacchetto. All'ultimo pacchetto. All'ultimo respiro. Un if e basta. Braimi, vabbè. Dunque, ragazzi. Vi invito a mettere mi piace. Arriviamo almeno a 30 mi piace per questo pacco opening, ragazzi. 30 mi piace. E dunque, non dimenticate un commentino qui sotto. Commentate come cazzo mi pare mi piace. Anche con commenti nonsense, ragazzi. Non sense. E dunque, ragazzi. Qui è Giovi Spoh. Vi saluto, vi ringrazio. E ci vediamo alla prossima con un nuovo video. Ciao, ragazzi. Ciao, ragazzi.